Ehi, Skun! Pare che tu abbia fatto un disastro, eh? I-Chan è piuttosto scossa e adesso sta cercando di riprendersi. Come si vede in tv, sfoga la sua furia come una nome ungio! Così e così! Capito? E c'è un favore che vorrei chiedere a Ke-Chan. Mia non sta facendo finta di niente per quanto è successo ieri. Anche Kei-Chikun dovrebbe far finta di niente, va bene? Però anche Kei-Chikun dovrebbe averlo capito. Che anche Mi-Chan può essere graziosa. Tana perché Kei-Chikun? Sto solo facendo la tua stessa strada. Che a te-c'è un'altra... Che a te-c'è un'altra... Che a te-c'è un'altra... Grazie a tutti.